1929 Santa Sede e regime fascista siglano i patti lateranensi 1961 Gerusalemme inizia il processo Eichmann 1979 l'Ayatollah Khamenei si insiede al potere in Iran commenta il fatto del giorno Fabrizio Brancoli direttore di Il Tirreno Margaret Thatcher una donna che ha cambiato la storia del novecento aveva una voce famosissima ma non era la sua di questo parliamo oggi